La fase 2 non riguarda solamente la vita di tutti i giorni, ma anche le singole realtà imprenditoriali come il Taranto che sta organizzando il suo avvenire. Le decisioni che verranno assunte dalla proprietà saranno il frutto di una duplice spinta interna ed esterna. La paternità della prima spetterà ovviamente sia la nuova dirigenza ionica che al rinnovato staff tecnico. La seconda deriverà dalle deliberazioni assunte dalle istituzioni dello sport, per cui da entrambe nascerà la strategia da perseguire. L'obiettivo rimane sempre il medesimo per imposizione del buon nome della piazza Tarantina, fare un campionato di vertice. Già, è presto detto, poiché dipenderà da colui o coloro che farà o faranno il mercato rosso-blu nel ruolo di direttore sportivo o anche di consulente esterno. I nomi che come satelliti attorno a un pianeta ruotano vicino al Taranto non sono pochi e il primo rimane sempre quello dell'ex cerignola Alessandro Degli Esposti, che avrebbe il gradimento del presidente Massimo Giove, che naturalmente avrà con sé una rosa di candidati da contattare o già contattati con cui interagire. Salgono anche le quotazioni dell'ex rosso-blu Luca Evangelisti, sempre legato al Taranto e a Taranto. La panchina continua naturalmente a scottare perché bollono in pentola diversi nominativi dal tecnico del graniano Rosario Campana al casaranese Dino Bitetto. La scelta, in ogni caso, ricadrà contestualmente o in seguito a quanto la FICC farà per riformare eventualmente i campionati, con l'istituzione, ad esempio, di una categoria intermedia tra professionismo e dilettantismo. Tutto, perciò, passerà anche da quel eventualmente.